Siccome c'era una madre con il bambino, perché la madre era in carcere, quindi aveva partorito in carcere, in uno dei carceri di Assad, e il bambino aveva 5 anni, non era mai uscito. Quindi quando questo gli raccontava una storia con un uccellino su un albero, questo rispondeva «Ok, ma che cos'è un uccellino? Che cos'è un albero?» Ok, questa introduzione sarà molto breve perché cercheremo di andare immediatamente al punto. La puntata di Globo di questa settimana è una puntata sulla Siria, ma soprattutto dalla Siria. Perché in Siria, lo sapete ovviamente, è successa una cosa incredibile e sorprendente. Il regime della famiglia Assad, che ha governato il paese per più di 50 anni e che è stato uno dei regimi più violenti e brutali degli ultimi decenni, è crollato letteralmente nel giro di pochi giorni. Per questo, in via eccezionale per la seconda settimana consecutiva, abbiamo richiamato a Globo Daniele Raineri, che nel frattempo è andato a Damasco, è entrato nella capitale siriana e ci racconterà che cosa sta succedendo da lì. Con Daniele Raineri parleremo di quello che dicono le persone ad Damasco, parleremo delle prigioni del regime, parleremo del sistema repressivo del regime, parleremo di quello che sta succedendo adesso in Siria e di quali sono le prospettive per questo paese. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Daniele, bentornato. Grazie. Cominciamo dal tuo viaggio verso la Siria. Tu, un paio di giorni fa, sei atterrato a Beirut. Di fatto, appena è caduto il regime di Bashar al-Assad in Siria e poi da Beirut sei arrivato a Damasco. Com'è stato questo viaggio? È stato molto semplice, perché siamo in quel periodo magico quando succede qualcosa di veramente grosso. Siamo in quel periodo magico in cui l'accesso è molto facile. È una cosa che succedeva nelle primavere arabe, nei primi momenti, ma anche in Ucraina, subito dopo l'invasione russa. Era successo anche adesso. Sono partito da Beirut, in direzione di Damasco, al confine fra il Libano e la Siria. Non c'era nessuno. Sono passato, cioè dal lato libanese ovviamente mi hanno timbrato il passaporte in uscita, ma dal lato siriano non c'era nessuno. Con la macchina si passava come se fosse una strada qualsiasi. e sono arrivato dritto a Damasco. La cosa, da un certo punto di vista, è anche preoccupante, perché il fatto che non ci siano posti di blocco in un territorio dove in questo momento c'è soltanto il caos e tantissima gente armata è strano. E poi una volta arrivato a Damasco mi sono accorto che non ci sono controlli, non ci sono permessi da chiedere. E mi sono reso conto anche che il regime è in qualche modo ancora dentro la testa degli abitanti. Il loro cervello è proprio rimasto ancora in un format regime e non si è ancora reso conto che c'è la libertà. Oggi, per esempio, volevo raggiungere il palazzo presidenziale e sono saltato su una macchina per andare al palazzo presidenziale e il guidatore doveva chiedere le indicazioni. E io gli ho detto, ma tu sei di Damasco? Il palazzo presidenziale è qui sopra, davanti, sul Monte Cassiun, che è proprio fatto in modo, è costruito in un punto in modo da dominare tutta la città. Hai detto, tu non sai come ci si arriva? E lui mi ha detto, sì, sono di Damasco, ma nessuno di noi è mai salito verso il palazzo presidenziale. Nessun civile ha mai fatto questa strada. Quindi io devo chiedere indicazioni per un posto che è a un chilometro da Damasco. Oppure, in altri momenti, quando chiedi di entrare in un posto, ti dicono, forse è meglio chiedere un permesso per fare questa cosa. È però un permesso a chi? Non c'è ancora un'autorità precisa, non c'è ancora qualcuno che ti può dare oppure non dare il permesso. Ma subito l'istinto è, chiedo un permesso, non possiamo fare questa cosa senza... È evidente che ci sarà sicuramente un permesso da chiedere, non possiamo fare questa cosa senza un permesso. Quindi siamo in queste fasi di, diciamo, di euforia in città, di totale libertà o sregolatezza, a seconda del punto di vista, che è una finestra temporale che dura pochissimo e si sta già chiudendo, perché poi il palazzo presidenziale, all'ingresso ci sono delle guardie armate con i passamontagna che dicono no, non si può entrare e quindi bisogna andare a parlare con i loro superiori. Cioè già questa finestra di totale mancanza di controllo si sta chiudendo. Però è quello che ho visto arrivando a Damasco. Hai parlato di euforia. Una volta entrato a Damasco, che situazione hai trovato? Cosa sta dicendo la gente? Sono ancora in corso ai festeggiamenti. Allora, euforia di giorno. Si va nella grande piazza centrale, piazza del Humayyad, c'è tutta la gente. Ci sono anche molte donne, che è una cosa che si chiede spesso, ma non c'erano donne i primi due giorni, forse anche abbastanza comprensibilmente, perché la città era invasa da una massa di uomini armati mai vista prima e quindi diciamo c'era molto cautela. Adesso c'è molta gente. L'impressione che ho avuto io è che alcuni degli abitanti di Damasco che io ho visto, molto eleganti, molto dei quartieri bene della città, siano venuti a festeggiare perché in qualche modo volevano essere visti mentre festeggiavano il nuovo cambio, il nuovo cambio di regime. Volevano far vedere che loro, insomma, si sono subito adeguati a questo enorme cambiamento in Siria, perché penso che chi non fa così potrebbe essere sospettato di essere ancora attaccato al vecchio corso assadista, al vecchio regime e bisogna ricordare che mentre io, insomma, non l'ho vista, in questo momento c'è una caccia a tutti i gerarchi, a tutti i comandanti militari, a tutti i capi delle molte agenzie di intelligence e dei servizi di sicurezza al servizio di Assad, perché Assad ha preso un aereo ed ha scappato a Mosca con la sua famiglia, ma non si è portato dietro tutto l'apparato repressivo che lo serviva e questi sono rimasti in Siria e devono in qualche modo fuggire alla vendetta. Comunque, in strada ho visto molto entusiasmo, c'erano le foto ricordi dei bambini, le donne che sventolavano le bandiere. Di sera la città diventa cupa, diventa molto buia e molto cupa, senza luci. sento molti spari delle mitragliere della contraerea che stanno sparando qualche cosa. Io immagino che siano dei droni da ricognizione, ipotesi, droni da ricognizione israeliani che stanno tenendo d'occhio tutto quello che succede tra Damasco e il confine israeliano, che è a poca distanza. In questo momento ci sono anche dei bombardamenti molto intensi israeliani e non molto distanti da Damasco, perché stanno distruggendo tutte le infrastrutture militari siriane per riportare indietro di 20 o 30 anni le forze militari siriane. Ne stanno approfittando visto che in questo momento non c'è nessuno che possa rispondere. Sento anche di notte a volte spari di armi leggeri. Di giorno li capisco, sono gli spari per fare scena. Di notte è strano sentire queste raffiche perché ti chiedi sempre perché questo sta festeggiando da solo nel buio nel silenzio quindi ti chiedi ok allora perché sta sparando. Però è ancora come dire non è ancora facilissimo muoversi dappertutto e scoprire le ragioni le ragioni di tutto. Manca la benzina in particolare il diesel che arriva dall'est del paese da De Rezor e quindi questo rende molto complicata la vita perché molte auto semplicemente sono rimaste senza benzina e non si muovono. Aiuta molto diciamo perché le strade sono sgombre c'è poco traffico però un paese non può funzionare senza carburante l'elettricità per adesso mi sembra che vada senza senza grossi problemi mi chiedo se non sia anche questo un trucco un trucco dei primi giorni nel senso che ad Aleppo si sa che quando Hayata Rirasham è arrivata come misura per ringraziarsi la popolazione per un po' ha lasciato senza elettricità le grandi fabbriche e la diretta tutta alla popolazione civile che invece di solito doveva fare dei turni per godere dell'energia elettrica dei turni aveva l'energia elettrica soltanto alcune poche ore al giorno e quindi per qualche giorno hanno avuto energia elettrica sempre come segnale di grande cambiamento ma è ovvio che l'elettricità rimane sempre la stessa la quantità prodotta quindi semplicemente stai cercando di dare un po' di sollievo alla popolazione per due o tre giorni e poi si ritorna alla scarsezza della normalità si vedono in giro molti soldati di Ayat Harirasham nel senso Damasco è una città è una capitale di due milioni e mezzo di abitanti che è stata conquistata da un gruppo armato da un insieme di gruppi armati nel giro davvero di pochi giorni si vedono gli effetti di questa conquista oppure la vita scorre abbastanza normalmente a parte ovviamente le cose che ci hai detto a proposito degli spari di tutto il resto ma per esempio i soldati si vedono? si si vedono a qualche incrocio molti hanno i passamontagna quindi si vedono la mia impressione è che in questi primi giorni di post Assad la gente di Damasco va davanti per un patto tacito di gentilezza reciproca quindi nelle strade si danno la precedenza si cerca comunque di tutti sanno che questa è una fase di transizione e cercano di arrivare senza troppi problemi alla fine di questa fase di transizione quindi vedi proprio la gente un po' più gentile del solito che cerca in qualche modo di dire ok siamo tutti in un periodo sconosciuto non sappiamo nulla di quello che succederà vediamo che cosa succede cerchiamo di usare un minimo di civiltà per arrivare in fondo a questa fase ma è tutto terribilmente transitorio e passeggero non so è come immaginare una città italiana se non funzionassero i semafori per diciamo una settimana è ovvio che il traffico comunque noi prenderemo la macchina lo stesso gli scooter il traffico ci sarebbe lo stesso si cercherebbe in qualche modo di passare lo stesso agli incroci senza avere incidenti ecco è la stessa cosa a Damasco la gente cerca di non farsi del male di tornare più o meno alla normalità Prima di iniziare questa conversazione mi hai raccontato che sei stato nella famigerata prigione di Sednaia la più grande prigione per prigionieri politici del regime di Assad di cui insomma in questi giorni si è parlato molto com'è andata? Sono andato in questa prigione con questi blocchi altissimi di cemento e questi muraglioni col filo spinato a 25 km dalla capitale Damasco prima cosa che devo dire che c'è questo problema della prospettiva tra quello che si sente dire in occidente e quello che si sente dire in Siria mi spiego meglio in occidente vedo che tutti i titoli parlano di incognite del futuro il califato la possibile deriva della Siria e c'è preoccupazione e tutti chiedono e adesso che cosa succede? In Siria invece dove subivano questo sistema repressivo repressivo e crudele messo in piedi e rodato in tanti decenni dalla dinastia degli Assad sono ancora nella fase in cui non si chiedono e adesso ma in cui si godono la fine di quel sistema repressivo un sistema repressivo su scala industriale che ha fatto sparire circa centomila persone in questi anni sparire nel senso che non si sa proprio dove siano finiti e la maggior parte di queste persone è morta e quelli che non sono morti raccontano di di torture di torture indicibili di una durezza e di una crudeltà incredibile va ricordato che Assad per costruire il suo sistema di potere e il suo apparato repressivo prese spunto dalla Corea del Nord e quindi il culto della personalità i servizi di sicurezza capillari che ascoltavano ovunque la volontà di punire qualsiasi piccolissima deviazione dall'ortodossia di pensiero imposta quindi detto in parole povere chi raccontava una barzelletta su Assad finiva a Settinaia per un periodo di tempo indefinito e magari veniva dimenticato lì dentro in queste celle e anche se è fatta aiutare la Siria di Assad a mettere in piedi questo sistema da alcuni comandanti nazionali nazisti che sono fuggiti dopo la seconda guerra mondiale sono arrivati in Siria quindi ci sono i metodi della Gestapo gli ufficiali dei servizi di sicurezza assadisti hanno preso lezioni dalla Gestapo quindi immaginarsi un misto medio orientale tra i sistemi repressivi della Corea del Nord e quelli della Gestapo applicati in massa ai siriani e ci si comincia a fare un'idea di che cos'era la Siria sotto Assad e di perché poi loro vanno nelle strade a festeggiare mentre noi ci chiediamo e adesso insomma la Siria potrebbe essere instabile è un lusso diciamo chiedersi parlare di instabilità questi vengono fuori da una situazione da una situazione da l'incubo e in questo sistema repressivo Sednaia diciamo era il grande centro era anche conosciuta Sednaia perché il regime voleva che fosse conosciuta perché bastava la parola perché in realtà il sistema repressivo di Assad si fondava su tantissime prigioni ogni quartiere a Damasco alla sua prigione ogni stazione di polizia ogni commissariato alle sociali di isolamento alle sue squadraci di torturatori però Sednaia diciamo in questo sistema e scusate se continuo a dire sistema ma in realtà al-Nizam in arabo è esattamente come i siriani definivano il regime di Assad perché è così è il sistema nel quale tu vivevi e non avevi scampo il sistema vedi tutto il sistema vince sempre non puoi uscire dal sistema era questa la mentalità Sednaia in questo momento è uno spettacolo angosciante perché entri ci sono questi infiniti corridoi e stanzoni di cemento non illuminati e chini sul pavimento di questi stanzoni ci sono tantissimi siriani tantissime famiglie di siriani che frugano fra le carte finite per terra e che ormai sono state calpestate da cinque giorni per cercare qualche indizio su loro cari che sono finiti a Sednaia e che sono scomparsi quindi vedi centenari di persone che entrano ed escono da questi corridoi di cemento poco illuminati e calpestano questi fogli che poi vengono presi avidamente da altri che cercano di leggerli perché magari c'è un nome ma ovviamente è come è una ricerca praticamente impossibile come si fa dentro questo archivio sparso in questi questi enormi stanzioni di cemento ma sono veramente enormi sono veramente tantissimi è una prigione molto grande c'erano rincuse circa quattromila persone e poi da un lato di Sednaia io ho intervistato alcuni detenuti che mi hanno mi hanno spiegato i rituali della giornata ed erano ed erano veramente veramente molto duri dal fatto che devono tutti sdraiarsi sul pavimento e guardare fisso il pavimento senza dire nulla quando si apriva la porta come regola al fatto che erano in 150 per cella quindi erano schiacciatissimi al fatto che non potevano parlare e quindi perché da fuori le guardie origliavano e si sentivano qualcuno parlare c'erano punizioni severissime e quindi loro parlavano con la lingua dei segni immaginate 150 persone chiuse dentro uno stanzone senza quasi lo spazio per sedersi che parlano fra loro con la lingua dei segni un incubo partorito da servizi paranoici questo la progione di Sednaia è un incubo che io ne so sto parlando come se fosse qualcosa che succedeva nel medioevo in un passato remoto ma fino a una settimana scorsa fino a una settimana scorsa stava funzionando e stava funzionando molto bene senza l'idea che crollasse tutto così all'improvviso poi sono passato davanti a una serie di ganci di metallo una ventina di ganci di metallo fuori appena fuori diciamo da una delle porte di uno dei rami del carcere dove c'erano le impicagioni di massa quindi al giorno delle impicagioni loro ammazzavano cento persone le appendevano a questi cappi tutti messi in riga quello che mi ha colpito dei cappi è che erano diciamo bassi non erano alte non c'erano queste forche molto alte semplicemente erano dei cappi attaccati al muro loro da sopra li mettevano attorno al collo dei detenuti e lasciavano che i detenuti che avevano le mani legate morissero perché erano appesi per il collo a questi a questi cappi ma i piedi quasi sfioravano il pavimento poi toglievano i corpi mettevano il cappio al collo di altri detenuti caricavano i corpi su un camion e li portavano li portavano via ed era un sistema industriale di repressione e uccisione in alcuni casi mandavano dei certificati medici alle famiglie dicendo il detenuto X ha avuto un attacco di cuore in molti casi non hanno avuto non facevano nemmeno questo quindi c'è molta gente che non sa che cosa è successo un'altra cosa che mi ha colpito molto mentre ero a Sednaia è che c'era questa anche qui è tutto fatto è tutto è un paese in preda a delle paranoie collettive ma anche noi faremo lo stesso in quelle condizioni ovviamente è un paese sotto shock è un paese traumatizzato evidentemente ogni ora in cui sono rimasto a Sednaia a un certo punto c'era un enorme vociare tutti iniziavano ad agitarsi tantissimo arrivavano con martelli piedi di porco cercavano di sfondare un muro dicendo qua dentro qua dentro c'è una cella e stanno chiedendo una cella una cella segreta di cui noi non conosciamo l'ingresso ma c'è qualcuno che è rimasto chiuso qua e allora tutti vanno lì cercano di sfondare si vedono proprio delle crisi isteriche tutti aggrappati le sbarre da una parte gli altri che cercano di sfondare il muro dall'altra e dopo un po' questa cosa qua questo rumore si spegne e finiscono i colpi di martello perché scoprono che in realtà non c'era una cella segreta ma sono ancora lì dopo tutti questi giorni con la speranza che ci sia una cella dalla quale estrarre qualcuno io ho visto una famiglia che con i piedi ha notato questo pavimento che il pavimento diciamo era di un colore diverso che è una cosa normalissima è una grande struttura magari ci hanno fatto passare delle canalette poi hanno ricoperto insomma dei tubi hanno fatto dei lavori e col piede picchiavano il piede contro il pavimento dicevano vedete suona diverso è cavo qui dovremmo scavare qui sotto c'è qualcosa la Siria la Siria sta cercando centomila siriani che sono scomparsi nel nulla e questo è questo risultato questo è quello che si deve essere una cosa che si sta leggendo in questi giorni è che stiamo soltanto cominciando a grattare la superficie dei crimini della famiglia Assad e in generale di quello che appunto chiamavi il sistema che ha governato la Siria per più di 50 anni hai anche tu la stessa impressione? no non ho la stessa impressione perché secondo me sono dati che comunque in qualche modo erano usciti erano usciti dalla Siria perché in qualche modo gente che era rimasta poco dentro Sednaia poi era stata liberata in Siria c'è anche ovviamente un problema di corruzione uno dei detenuti oggi mi ha detto io sono stato sono riuscito a cavarmela non mi hanno torturato non mi hanno strappato le unghie non mi hanno appeso alle sbarre per le mani non mi hanno fatto tutto quello che facevano ai detenuti li sodomizzavano con dei paesi di ferro umiliazioni continue perché la mia famiglia è riuscita a dare un enorme enorme somma a corrompere quindi io sono stato non torturato e adesso vi racconto queste cose altri anche sono riusciti a uscire e le hanno raccontate però per qualche strano meccanismo che diciamo è fuori dal nostro controllo di cui non abbiamo nessun insomma non governiamo non governiamo noi ci sono temi ci sono temi che prendono tantissimo e temi che invece non prendono il tema dei centomila rinchiusi in un carcere politico perché era un carcere politico quindi che puniva le opinioni delle persone non i fatti ma puniva le opinioni non è passato è rimasto così è rimasto un tema neutro incapace di farsi strada nell'attenzione dell'occidente si sapeva che era che era così la Siria era anche un paese turistico prima della guerra civile era un paese diviso in due un paese per i siriani e un paese per gli stranieri si diceva sì certo il regime è molto cattivo ma non si capiva in che cosa consistesse esattamente questa questa cattiveria anche se c'erano i dati per capirlo adesso adesso vediamo i cappi vediamo le celli di isolamento vediamo il sistema il sistema come funzionava nella sua praticità di tutti i giorni quindi sotto i cappi ci sono il cemento era obliquo in modo che i piedi dei detenuti non riuscissero a trovare a trovare appigli è solo questo particolare che mi è rimasto impresso o le celle alunfaridat dicono c'è l'isolamento molto piccole e ce ne sono molte sono di cubico di cemento e dentro non c'è assolutamente nulla sono completamente completamente vuote c'è un cubico di cemento ti mettevano lì lì dentro io capisco i racconti di gente che è uscita da Sednaia e non ricorda più nulla non ha perso la memoria non riesce a dire chi è perché se ti tengono lì dentro abbastanza a lungo mi sembra abbastanza ovvio che esci di senno impazzisci non riesci più a non riesci più a a capire diciamo che cosa ti è successo c'era racconto molto bello di un intellettuale siriano di cui adesso di cui adesso non ricordo il nome e lui raccontava che aveva incontrato quando era in cella una guardia l'aveva portato siccome c'era una madre con il bambino perché la madre era in carcere quindi aveva partorito in carcere in uno dei carceri di Assad e il bambino aveva 5 anni non era mai uscito quindi quando questo gli raccontava una storia con un uccellino su un albero questo rispondeva ok ma che cos'è che cos'è un uccellino che cos'è un albero a me veniva molto in mente questo racconto fatto da questo siriano che era riuscito poi a uscire dalla prigione perché se rimani lì dentro abbastanza a lungo perdi perdi la cognizione delle cose perdi qualsiasi contatto con la realtà che è appena lì fuori la realtà è a 100 metri di distanza eppure perdi qualsiasi punto di riferimento senti facciamo qualche passo indietro e proviamo a raccontare questi 11 giorni impensabili per la storia della Siria noi ci eravamo lasciati con Globo poco più di una settimana fa con i ribelli di Hayat Rirasham che avevano da poco conquistato Aleppo stavano avanzando e noi ci chiedevamo ingenui con il senno di poi se la guerra civile in Siria si sarebbe risvegliata si è risvegliata e poi è finita nel giro di pochissimi giorni e questo ovviamente non è un come dire non è un'ingenuità nostra questa cosa allora non la sapevano gli Stati Uniti non la sapeva la Turchia probabilmente non la sapevano gli stessi ribelli non la sapeva la Russia com'è stato possibile che il regime sia crollato letteralmente in 11 giorni? non lo sapevano i ribelli che di sicuro non si aspettavano un'avanzata un'avanzata così veloce nei loro sogni più selvaggi la grande ambizione dei ribelli del nord della regione di Idlib era entrare nella regione di Aleppo e riprendersi Aleppo che avevano perso nel 2016 e quindi in qualche modo dividere in due la Siria una sitia del nord senza il controllo di Assad e una Siria del sud ancora mai di Assad e poi però hanno scoperto che davanti a questa offensiva a contatto con l'offensiva l'esercito di Assad si è dissolto ma perché? perché anche i ribelli come anche noi in occidente erano vittime di questa illusione della stabilità di Assad uno dei grandi inganni del Medio Oriente in realtà la stabilità di Assad era la stabilità di un dente cariato che fuori magari sembra sano e dentro sta diventando sempre più cavo più vuoto più fragile insomma è un dente che sta per sta per cedere e però uno se ne accoglie soltanto quando comincia a sentire il dolore era il fatto che Assad fosse riuscito a fermare da qualche parte la linea del fronte la linea del fronte non si muoveva più ma diciamo che non si muoveva davanti a ribelli che hanno insomma i loro carri armati si contavano su una mano il resto è gente che ha delle metragliatrici degli scarponi e delle auto ecco non un grande non un grande esercito il fatto che la linea del fronte si fosse fermata creava l'illusione della stabilità ma in realtà il regime si stava infragilendo per esempio tantissimi soldati di Assad erano stati richiamati alle armi con una mobilitazione e questa chiamata alle armi era a tempo indefinito fino a quando si diceva l'attacco di terroristi non finirà quindi fino a quando la guerra civile non finisce tu devi continuare a fare il soldato quando è sembrato che ci fosse diciamo una fine della guerra più o meno molti di questi soldati sono stati rimandati a casa perché sennò il paese non funziona sennò la gente deve tornare alle sue occupazioni normali e quindi diciamo l'esercito è di molto ridotto le unità più preparate quelle migliori sono state mandate a nord dove si combatte ma sono state le prime a essere travolte della mandata dei ribelli travolte quelle tutte le unità successive tutti gli altri reparti erano meno preparati ancora e soprattutto meno volenterosi di morire per difendere la dinastia degli Assad il destino della dinastia degli Assad scusate l'impiccio di parole interessa soltanto alla dinastia degli Assad ecco non a soldati che si sono fatti dieci anni dieci anni di guerra e quindi il sistema quindi il regime si è afflosciato si è afflosciato come così su se stesso e i ribelli in molti casi si sono trovati la strada libera spalancata davanti da Aleppo fino giù a Damasco allora i ribelli hanno conquistato Damasco e di fatto conquistato la Siria tra sabato e domenica per cui siamo davvero agli inizi in una fase primordiale di insomma la nuova sistemazione che assumerà eventualmente la Siria nei prossimi mesi e poi nei prossimi anni però sta già succedendo qualcosa l'altro giorno è stato nominato un primo ministro ad Interim Mohammed Al-Bashir che peraltro era primo ministro anche del governo di Idlib per cui del governo di quella piccola area che i ribelli governavano fino a fino a pochi giorni fa ti chiedo ci puoi dare un po' l'idea di come si stanno muovendo queste cose sì mi ha molto colpito una cosa che è successa oggi sono andato sempre per cercare informazioni su questo sistema repressivo sono andato in un comando dell'intelligence siriana di Assad in particolare della branca antiterrorismo ed era occupata da Hayat Ali Rasham mi hanno detto entra pure non fare foto di noi e dei nostri mezzi non vogliamo immagini ma se vuoi scendere nei scantinati e guardare la prigione puoi non c'è problema non vogliono foto per ragioni di sicurezza perché ricordiamolo la Siria in questo momento è un paese bombardato da tre stati e quindi diciamo nessuno vuole foto di assemblamenti militari ecco però a me ha colpito molto che in questa sede dell'intelligence assadista ci fosse Hayat Ali Rasham come se ci fosse stato un cambio poi è ovvio che durante una guerra le basi di quelli prima diventano le basi di quelli dopo perché sono già pronte però non ho potuto fare meno di pensare eccolo qua subito il cambio chissà se queste celle torneranno in funzione presto chissà se semplicemente con qualcuno che ha parlato male del nuovo corso del nuovo del nuovo potere chissà se scatterà subito lo stesso meccanismo e tu che idea ti sei fatto conoscendo la storia di Hayat Ali Rasham conoscendo la storia del leader del gruppo Abu Mohammed Al-Giolani che ha fatto una riconversione pragmatica ma che non è una riconversione democratica diciamo che idea ti sei fatto anche insomma stando lì per qualche giorno per adesso Al-Giolani ogni volta che si è trovato di fronte a una scelta tra diventare più estremista o invece cedere e diventare meno estremista per adesso ha sempre scelto la via pragmatica diventare meno estremista si trova adesso al potere in uno stato la Siria che è formato da tantissime comunità diverse non immaginiamoci la Siria per nulla come un monoblocco fatto è un monoblocco abitato da una popolazione omogenea musulmana no ci sono tantissime comunità differenti non si può permettere di imporre una visione troppo rigida a tutte queste comunità così differenti per ora per ora non l'ha fatto però è passato troppo poco tempo per dare un giudizio è stato molto interessante il fatto che quando Ha'atari Rasham è entrata a Damasco abbia detto guardate fate conto che per la prossima settimana per i prossimi giorni la gestione delle cose è affidata a Muhammad al-Jalali che è il primo ministro del presidente Assad e voglio dire dopo una guerra che è costata centinaia di migliaia di morti affidare tutto al primo ministro del governo uscente ma si può usare la definizione governo uscente alla fine di una guerra fratricida di una guerra civile fratricida che ha traumatizzato l'intero Medio Oriente per la sua brutalità per la sua ferocia è stata è una cosa incredibile io non penso che nemmeno durante non so un cambio in Italia un cambio di governo in Italia ci sia questa affabilità ma gestite tutto voi finché noi non abbiamo capito bene come consolidare il nostro potere è stata una cosa molto interessante ed è anche stata una prova diciamo di sapienza politica io giro per le strade guardando mi chiedo guardo le donne senza velo mi chiedo sarà così? saranno obbligate a indossare il velo? che cosa succederà? vedo le interviste dei vescovi cristiani che finora dicono finora è andato tutto bene mi chiedo quanto durerà tutto così appeso che una cosa che posso raccontare delle cose di oggi ma davvero c'è da chiedere se saranno valide fra un mese o fra un anno che ti dicono le persone per strada? finora abbiamo raccontato appunto dei prigionieri dei guerrieri però non so se hai avuto modo di parlare chiaramente da un osservatorio molto ridotto nel senso che anche stando lì un mese si può parlare con un numero relativo di persone e tu sei lì soltanto da un paio di giorni però hai avuto modo di parlare con banalmente persone normali che vibrazioni hai colto? il format mentale è rimasto quello del regime in un'intervista con un detenuto che ho fatto oggi lui portava una di quelle maschere sanitarie che portavamo tutti diciamo al tempo del covid e non voleva togliersela perché aveva paura che eventualmente dalle foto qualcuno lo potesse riconoscere e quando gli si diceva ok ma il regime è finito chi temi e lui non si fidava non si fidava è una sindrome che ha colpito molti altri prigionieri mi hanno detto quando hanno aperto il carcere molti non si fidavano a uscire pensavano che fosse un test pensavano che uscire dal carcere fosse un tradimento e quindi pensavano una trappola e mi sembra che un po' tutta la città sia come dire guardinga in questo in questo senso quindi grandi festeggiamenti ma la fiducia al cento per cento ancora ancora non c'è dal punto di vista personale oggi ho avuto una conversazione una conversazione che non credevo avrei avuto con un combattente di Hayat Rirashan che mi ha guardato e mi ha detto io ti ho già visto può essere mi ha detto ti ho visto tanti anni fa dieci anni fa e quando io gli ho chiesto dove mi hai visto mi ha risposto Kfar Rumi ed è vero è un paese è un posto vicino a Idlib dove sono stato e poi ha descritto le persone con cui ero e ha azzeccato e ha detto io non mi ricordo la verità e lui mi ha detto no io ero piccolo in effetti era un combattente 20enne però questa cosa diciamo questa cosa mi ha fatto venire in mente che la Siria è un posto dove la guerra non sarà tutto quello che è successo negli ultimi anni non sarà dimenticato molte cose molto meno innocue di questa non saranno dimenticate ci saranno regolamenti di conti mancanze di fiducia tradimenti e insomma succederà un po' di tutto per molti anni questa transizione così pacifica questo fatto che i nuovi padroni della Siria sono entrati nella capitale senza sparare un colpo come dire forse non deve trarre in inganno ci sono ancora molte questioni lasciate lasciate in sospeso se questo si ricorda di un giornalista italiano che ha incontrato dieci anni fa non oso pensare tutti gli altri siriani che cosa pensino dei loro vicini di casa che servivano nell'esercito nei servizi di sicurezza e in altri che facevano lavori per per il regime queste sono le vibes che mi sono che mi sono arrivate ecco quindi entusiasmo ma anche ma anche questa cosa qua poco fa hai detto che la Siria è un paese bombardato anche mentre stiamo parlando diciamo da tre stati uno di questi sono gli Stati Uniti che hanno una presenza limitata ma comunque importante in territorio siriano e che fanno operazioni contro lo Stato Islamico contro quello che resta dello Stato Islamico e gruppi le cellule soprattutto nella parte orientale del paese gli altri due paesi che bombardano sono Israele e la Turchia raccontiamoli uno per uno cominciamo da Israele Israele mentre stava avvenendo la rivoluzione si è mosso molto rapidamente ha occupato parte delle alture del Golan questo territorio che secondo la comunità internazionale appartiene alla Siria ma che di fatto è un territorio conteso e poi appunto ha fatto un'operazione molto notevole che è stata disarmare quello che restava dell'esercito siriano Israele si trova davanti a una situazione once in a lifetime che ti succede una sola volta nella vita all'opportunità di disintegrare l'esercito siriano la Siria è un paese che sta subito a nord di Israele è un paese che aveva una posizione molto ostile contro Israele però diciamo la situazione si era congelata il regime di Assad è stato sostituito da da gruppi armati che non sono amichevoli con Israele ma che in questo momento non hanno i mezzi per per minacciare Israele Israele approfitta di questo cambio della guardia del fatto che le basi sono state lasciate sono abbandonate a se stesse che tutti i sistemi di contraerea sistemi missilistici addirittura ho visto che alcune con i missili gli israeliani hanno affondato le navi della marina militare siriana all'affonda nei porti stanno riportando indietro la Siria diciamo dal punto di vista militare a 20-30 anni fa e in modo che prima di dover pensare a quanto sono forti i siriani insomma Israele può portarsi in vantaggio può prendersi del tempo ecco ed è per questo che sta bombardando così intensamente sta anche creando una buffer zone e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che è temporanea ma su questo anche sappiamo che altre zone occupate degli israeliani in teoria erano temporanee ma poi sono rimaste sotto controllo dei soldati israeliani per 50 anni anche in questo caso diciamo bisogna seguire giorno per giorno quello che succede la Turchia sta facendo la stessa cosa nel senso sta applicando lo stesso concetto quello di buffer zone che vuol dire zona cuscinetto ossia frapporre della distanza fra te e i tuoi nemici nel caso della Turchia i nemici sono i kurdi seriani della Rojava la Turchia sta bombardando e sta usando molto anche le sue milizie le sue milizie in campo sono milizie non sono Hatari Rashan che comunque non è diciamo in rapporti di nemicizia con la Turchia ma sono milizie che prendono direttamente gli ordini dalla Turchia e stanno spingendo indietro i kurdi e lo fanno perché la Turchia vuole vuole creare delle zone che dal punto di vista nominale sono ancora in territorio siriano ma dal punto di vista del controllo effettivo sono turche la rete elettrica è collegata alla Turchia i servizi postali sono collegati alla Turchia i libri di testo nelle scuole sono stati prima approvati dalla Turchia e poi infine c'è un terzo stato il terzo governo quello degli Stati Uniti che sta bombardando a decine le posizioni dello Stato Islamico perché bisogna sapere che le grandi città sono quasi tutte a ovest poi c'è questo deserto enorme e finché c'era Assad diciamo c'era una qualche linea di confine fra il deserto e le città nel deserto sono nascoste le bande dello Stato Islamico che vivono diciamo in stato selvaggio e ogni tanto si fanno avanti per attaccare i checkpoint dell'esercito ma adesso come abbiamo detto anche prima i controlli sono molto sono molto scarsi almeno nella zona di Damasco non so più a nord verso Homs verso Hama ma i controlli sono molto scarsi e quindi i Stati Uniti bombardano per impedire che lo Stato Islamico approfitti di questo di questo vuoto dal punto di vista personale io penso che chiunque in Siria avesse bisogno di spostarsi ma fosse ostacolato dai posti di blocco dai controlli sia nelle zone degli insorti sia nelle zone di Assad ecco stia approfittando di questa settimana per andare dove vuole perché veramente ci si può spostare con facilità gli americani in questo modo hanno cercato di limitare un po' questa possibilità dello Stato Islamico se l'hanno fatto è perché avevano sottotiro diciamo delle concentrazioni di combattenti dello Stato Islamico ma nel deserto in realtà nessuno sa cosa succede nessuno si spinge fino a là sono due o trecento chilometri di macchina ed è appunto una strada rischiosa perché non sai cosa c'è dietro ogni curva vorrei finire con un'ultima domanda per così dire personale ce l'hai già detto poco fa tu segui la Siria e sei stato in Siria per tantissimo tempo hai seguito tutta la rivoluzione siriana prima ancora che cominciasse noi ci conosciamo da dieci anni io ricordo quando nel 2013 da più di dieci anni ricordo quando nel 2013 andavi in Siria quando nel 2014 andavi in Siria quando nel 2015 andavi in Siria quando il regime degli Assad ti ha bandito dal paese tu comunque continuavi a entrare nelle zone dei ribelli insomma in questi giorni altri giornalisti nella tua situazione persone penso per esempio a Clarissa Ward della CNN che hanno seguito questa guerra sono stati tante volte in Siria raccontavano lo stupore ma anche un po' la commozione di poter rientrare nel paese non so se vuoi condividere qualcosa in merito la fine del sistema in Siria è una cosa di cui nessuno poteva essere sicuro che sarebbe accaduta nelle nostre vite che avremmo testimoniato questa cosa qua potevamo scommettere sul fatto che sarebbe successo prima o poi potevamo augurarci che sarebbe successo presto ma per come funziona il Medio Oriente a volte diciamo i regimi se ne stanno al loro posto e ogni sofferenza resta impunita per tempi lunghissimi quindi c'è poco da sperare invece c'è stato questo crollo così improvviso dal punto di vista personale è una cosa che mi ha colpito molto senza fare paragone diciamo con Clarice Award della CNN che insomma sono questi mostri del giornalismo che tra l'altro ho incontrato proprio decenni fa in Siria quando ancora non era così famosa ed era mi ricordo molto determinata molto brava mi chiedo se visto dall'occidente noi non cadiamo sempre in questa trappola per cui questi regimi autoritari queste potenze sono sempre inevitabilmente fortissime e potentissime e non verranno mai giù vale per la Siria ma vale per altri luoghi vale per la Crimea e altri posti mi chiedo se veramente non siamo tutti vittima di un di uno stereotipo per cui questi sono fortissimi resteranno al loro posto sono molto crudeli e quindi noi abbiamo ragione dal punto di vista ideale ma loro hanno più controllo sulla realtà con la loro forza e con la loro ferocia mi chiedo se invece le cose non stiano un po' in modo diverso se non siano anche loro molto fragili e maturi per cascare giù questo è quello che mi chiedo e me lo chiedo perché non avrei mai pensato di camminare così liberamente nei corridoi di Setnaia che era un posto orrendo ma inaccessibile già considerato inarrivabile quindi me lo chiedo adesso prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globococcelalpost.it vi ricordo di scaricare l'app del post di attivare le notifiche e di consigliare questo podcast e adesso Daniele Rainieri so che ci hai dato tre consigli appena una settimana fa però insomma se hai almeno un altro consiglio da darci noi ce lo prendiamo un libro un libro sulle prigioni siriane per capire un po' di più di quello che abbiamo raccontato oggi è la conchiglia di Mustafa Khalifa chiedo perdone in anticipo per la tetragine e la cupezza degli argomenti trattati ma sono tutti argomenti reali e prima o poi bisognava fare i conti anche con con il sistema siriano Daniele grazie e buon lavoro grazie a voi